Il ruolo dei ricercatori italiani nella lotta all'HCC? Io credo che l'Italia e la Spagna giocano un ruolo fondamentale a livello mondiale, in quanto da sempre c'è stata questa cultura dell'epotocarcinoma. Quello che possiamo fare al di fuori degli studi di fase 3, è fare, anche oggi parlerò appunto qui a dare un giovane delle reti che si possono creare, diciamo così, accademiche, per cercare di creare delle reti a livello mondiale che permettono di identificare effettivamente quelli che hanno una maggiore risposta a certi tipi di trattamenti sistemici, ma anche all'opera regionale. Quindi quello che stiamo costruendo sta un po', credo, dal mio punto di vista, sta rivoluzionando come possiamo trattare i nostri pazienti nella quotidianità, proprio nell'ambulatorio e nella quotidianità del nostro ospedale.